La parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù ha un nuovo parroco, infatti ieri sera si è insediato il giovane parroco Don Luigi Piccolo. Il sacerdote è stato per ben 12 anni ad Oliveto Citra, piccolo centro dell'Alto Sele, dove i fedeli hanno manifestato il proprio dissenso all'Arcivescovo all'atto della decisione di trasferirlo a Battipaglia, quindi una persona ed un sacerdote molto stimato ed amato dalle persone. Ma ovviamente la decisione presa non è stata cambiata e quindi c'è stato il passaggio di testimoni dopo oltre 51 anni vissuti con il vulcanico e dimenticabile fondatore Don Fernando Lupo, al quale i fedeli resteranno per sempre legati al suo ricordo e lo hanno salutato con una funzione religiosa e poi civile con abbracci e strette di mano di stima ed affetto. Ieri sera il passaggio di consegna tra i due sacerdoti è stata la solenne liturgia preseduta dall'Arcivescovo di Salerno Su Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi con il saluto del nuovo parroco Don Luigi Piccolo. In questo fine settimana quindi le prime messe ufficiate dal neoparroco Don Piccolo.